esercizio sui vettori allora il testo dice questo calcolare il modulo del vettore risultante della seguente coppia di vettori abbiamo il vettore u di componenti 1 2 e il vettore v di componenti meno 2 1 rappresentai nel piano cartesiano il vettore u è il seguente a componenti 1 secondo la 6x 2 secondo la 6 il vettore v è il seguente a componenti meno 2 secondo la 6x meno 1 secondo la 6 sono interessato a determinare le componenti del vettore w quindi qui scriviamo elementi noti il vettore u di componenti 1 2 il vettore v di componenti meno 2 meno 1 incognito il vettore risultante r pari a w allora risolvo il vettore risultante w a componenti w x e w y e possiamo scrivere che il vettore w si può scrivere appunto indicando tra apparenzi le componenti w x e w y ricordiamo che naturalmente le componenti e vettore risultante si ottengono sommando le componenti secondo la 6x del vettore v e del vettore u e le componenti secondo la 6y del vettore risultante si ottengono sommando le componenti secondo la 6y del vettore v e del vettore u quindi procedendo in questo modo io posso calcolare le componenti secondo la 6x del vettore risultante sommando meno 2 e 1 intesa come vx e ux mentre la componente secondo l'asse y vettore risultante si ottiene sommando diciamo in questo caso v con y con u con y quindi abbiamo componenti meno 1 1 se scorriamo la slide in alto possiamo notare che il vettore w che è questo il vettore risultante a componenti secondo x meno 1 secondo y 1 e ho sommato la prima volta u con x con v con x quindi meno 2 con 1 e ho ottenuto meno 1 la seconda volta ho sommato diciamo v con y che vale meno 1 con u con y che vale 2 ottenendo meno 1 ottenendo 1 che è questa a questo punto sono interessato a calcolare il modulo di questo vettore e applicheremo pitagora ricordiamo che il cateto di questo triangolo rettangolo qui devo fare cateto al quadrato più cateto al quadrato se scorriamo la slide in basso ecco il vettore risultante che ha componenti meno 1 1 meno 1 sull'asse x 1 sull'asse y al modulo pari alla radice quadrata dei quadrati delle componenti e abbiamo ottenuto radice quadrata di 2 secondo esercizio qui c'è scritto determinare le componenti cartesiane di un vettore v di modulo 15 centimetri che forma un angolo di 60 gradi con la direzione dell'asse x se scorriamo il disegno intanto qui abbiamo indicato gli elementi noti il modulo di v di 15 centimetri l'angolo alfa di 60 gradi elementi incontri di v con x e v con y quindi noi qui abbiamo come rappresentazione il vettore v che ha modulo 15 centimetri e siamo interessati e inclinato gli 60 gradi rispetto all'asse x vogliamo conoscere v con x e v con y quindi diciamo che le componenti cartesiane del vettore v sono v con x v cosen alfa v con y v sen alfa ecco qui sto sostituendo alla prima formula il modulo che è 15 per il seno di 60 gradi che è radice di 3 mezzi no e ottengo 13 centimetri nella seconda formula faccio 15 per il coseno di 60 gradi che vale un mezzo ottenendo 7.5 centimetri quindi in questo modo ho calcolato le componenti del vettore v sono questi questi numeretti qua quindi faccio un riferimento a v con x che vale 2 v con y che abbiamo detto vale 2 cioè vale il disegno non è improprio in scala comunque v con x che vale 7.5 centimetri e v con y che vale 13 centimetri leggendo in opportuna scala otteniamo questi valori esercizio determinare il modulo del vettore differenza di due vettori a e b entrambi di modulo 10 metri che forma un angolo fra di loro di 60 gradi vediamo come dobbiamo procedere quindi io scorro la slide verso l'alto quindi in questo caso abbiamo il vettore seguente che il vettore a questo il vettore b sono interessato a calcolare naturalmente la differenza di a meno b quindi il vettore b è il seguente questo è meno b l'operazione a meno b equivale alla somma di a sommato al vettore meno b quindi risultante è il seguente il vettore b forma un angolo di 60 gradi con il vettore a scorro verso l'alto qui ho scritto noto quindi il modulo di b vale 10 metri il modulo di a vale 10 metri e risultante r la somma di a intanto è la differenza di a meno b che si può interpretare come la somma di a sommato al vettore opposto meno b quindi in questo caso io ho scritto la soluzione alla seguente a con x vale 10 metri e perché il vettore a con x è questo diciamo in vettore che giace sull'asse delle x quindi a componente a con x che vale 10 ma con y vale zero il vettore invece diciamo b con x vale secondo l'asse x 10 per il coseno di 60 gradi che corrisponde a 5 metri mentre b con y vale 10 per il seno di 60 gradi corrisponde a 8.7 metri ricordiamo che la componente secondo l'asse x è sempre per il coseno modulo per il coseno secondo l'asse y corrisponde a modulo naturalmente per il seno le componenti al vettore opposto si ottengono cambiando i segni quindi questa diventerà meno 5 questa diventerà meno 8.7 a questo punto siamo in grado di poter calcolare il vettore risultante nel senso che le componenti risultanti secondo x si ottengono sommando a con x più la componente vettore bx cambiata di segno quindi 10 meno 5 vale 5 metri mentre la componente secondo l'asse y risultante si otterrà sommando alla componente del vettore x con l'asse y con y la componente meno bx diciamo il vettore meno b ottenendo meno 8.7 metri a questo punto per trovare il modulo devo applicare pitagora facendo i quadrati dei moduli cioè delle componenti del vettore risultante quindi 5 al quadrato più 8.7 al quadrato sotto radice abbiamo 10 metri ricordiamo che stiamo facendo riferimento a questo disegno ho determinato le componenti di questo vettore rx secondo l'asse x ed ry secondo l'asse y entrambe negative e ho determinato il modulo applicando pitagora scorriamo la slide verso l'alto abbiamo un altro esercizio qua dice determinare le componenti cartesiane del vettore v di modulo 30 metri e che forma un angolo di 120 gradi in questo caso l'angolo è di 120 non è di 60 quindi è questo l'angolo beh qui il problema è analogo ai precedenti che abbiamo affrontato in cui si chiedevano le componenti di un vettore noto l'angolo che forma con l'asse x perché noi facciamo riferimento all'angolo supplementare di 120 che in questo caso rappresentato da 60 gradi è questo no quindi se questo è 120 questo è 60 perché più 120 abbiamo l'angolo piatto 180 e quindi dirò che le componenti vy e vx si ottengono moltiplicando v per il coseno di 60 ottengo vx v per il seno di 60 e ottengo v con y quindi farò il ragionamento che abbiamo fatto prima e otteniamo queste componenti l'unica attenzione che bisogna prestare che nel quadrante in cui si trova questo vettore che è il secondo quadrante quindi ricordiamo che questo è il primo questo è il secondo terzo quarto la componente secondo y è positiva quella secondo x invece è negativa quindi va presa con il segno meno ecco questo dobbiamo stare un attimo attenti e l'esercizio risolto adesso parliamo di prodotto scalare dati due vettori sappiamo che l'operazione prodotto scalare si scrive con questo simbolo a scalare b ed è un numero è uguale ad a per b per il coseno dell'angolo che i due vettori formano e si produce anche nel prodotto della componente del vettore a o meglio del modulo vettore a per la proiezione vettore b sul vettore a che è il segmento b1 se noi proiettiamo questo vettore sul vettore a abbiamo b1 ma si può anche pensare come il modulo di b per la proiezione di a sul vettore b che non ho rappresentato ecco la cosa che è importante ricordare che il prodotto scalare è un numero non è un vettore che se i vettori formano del loro un angolo di 90 gradi il prodotto scalare è nulo perché sappiamo che il coseno di 90 è zero e soprattutto che naturalmente lo incontreremo in fisica quando sarà diciamo quando si affronterà il problema energetico quindi saremo interessati a calcolare il lavoro compiuto da una forza no in quel caso il lavoro è definito come prodotto scalare ma vedremo altre applicazioni del prodotto scalare ecco l'importante è ricordare che esso rappresenta uno scalare ed è nulo solo quando i vettori di cui si fa il prodotto scalare sono tra i loro ortogonali formano un angolo di 90 gradi ecco un altro prodotto importante è il vettoriale io ho un vettore v1 un vettore v2 su di un piano che forma un angolo alfa il prodotto vettoriale è ortogonale al piano che contiene i vettori v1 e v2 ed è diretto nel verso tale che il primo vettore v1 ruoti sorrapponendosi al vettore v2 secondo il minor angolo e in senso antiorario quindi diciamo che in questo caso questo è il verso la direzione del vettore prodotto vettoriale è un vettore a differenza del prodotto scalare il prodotto vettoriale è un vettore a un modulo che è il prodotto dei moduli dei vettori di base v1 e v2 per il seno di quest'angolo e rappresenta il modulo di questo vettore ecco interessante è trovare invece il verso il prodotto vettoriale di due vettori paralleli e nullo ricordiamo che il prodotto scalare di due vettori ortogonali è nullo qui invece i vettori paralleli danno prodotto vettoriale nullo inoltre diciamo che il prodotto vettoriale ho indicato con doppia v è ortogonale al piano individuato dai vettori v1 e v2 e qui ho riportato la regola della mano destra quindi con le quattro dita se faccio il prodotto a vettore b devo diciamo cioè devo praticamente riportare le quattro dita secondo il vettore diciamo a ecco qui lo capiamo bene no le quattro dita seguono il vettore a e devono far ruotare il vettore a sul vettore b il pollice indicherà naturalmente il vettore prodotto vettoriale c è chiaro che la rotazione possiamo vedere che avviene in senso anti orario secondo il minore angolo ecco tenendo la mano destra ecco si chiama regola della mano destra in modo che le dita seguono la rotazione vettoriale significa che le quattro dita devono praticamente accompagnare la rotazione vettoriale sul vettore b in senso anti orario il pollice segnerà direzione verso del vettore prodotto vettoriale questa regola molto importante che troveremo spesso vediamo alcuni approfondimenti uno è questo due vettori a e b sono interessato a determinare la somma vettoriale di a e b che questo vettore r ma anche il modulo beh la somma vettoriale possiamo trovarla col metodo del parerogramma col metodo punto coda il modulo c'è questa formula interessante che fa uso del quadrato di del modulo vettore a e lo vediamo qua del quadrato del modulo vettore b più il doppio prodotto di a per b per il coseno di quest'angolo compreso abbiamo il coseno di alfa quindi due volte a b per coseno alfa no quindi ricordiamo che il vettore r è la somma vettoriale di a più b somma di due vettori a e b noto alfa angolo tra i vettori a e b il modulo di r lo otteniamo facendo la radice quadrata di a quadro più b quadro più 2b coseno alfa bene nel caso fossimo interessati al calco della differenza di due vettori ricordiamo che la differenza dei due vettori a meno b a meno b equivale alla somma di a con l'opposto di b che è il vettore meno b ed ha questo vettore risultante in questo caso se uso la formula precedente dovrei scrivere sempre che il modulo diciamo del vettore risultante è la radice quadrata di del quadrato di a del quadrato di b ricordiamo che era più due volte a per b il doppio prodotto per il coseno di 180 meno alfa si dimostra che il coseno di 180 meno alfa altro non è che meno coseno alfa quindi alla fine viene fuori questa formuletta che consente di determinare il modulo del vettore risultante un altro approfondimento riguarda l'emissione del vettore di spostamento ecco non dobbiamo confondere la tradittoria compiuta da un punto materiale che parte da e raggiunge b punto inizio punto di fine con il vettore spostamento che è un vettore che ha un modulo una direzione un verso che congiunge inizio con la fine vedremo che lo incontreremo quando daremo la definizione di velocità come vettore e faremo riferimento conoscendo la tradittoria di un punto materiale al vettore spostamento e in quel caso capiremo meglio la distinzione quindi io qui ho riportato questa nota non si deve confondere dal vettore di un punto materiale con il vettore spostamento a b fine della video lezione